Ci si chiede se il virus continua a mutare, che senso ha continuare a fare vaccini aggiornati contro un virus che poi potrebbe cambiare. Di nuovo, ripensiamo al caso dell'influenza. Il virus dell'influenza stagionale non è mai identico a se stesso. Anche questo cambia e quindi ogni anno dobbiamo aggiornare i vaccini. Ma questo non significa che la vaccinazione che noi abbiamo fatto, ad esempio, contro il ceppo originario, non ci stia proteggendo anche contro le nuove sottovarianti. Perché si tratta comunque sempre della stessa proteina che utilizziamo, anche se ha accumulato dei cambiamenti. L'aggiornamento dei vaccini serve a rendere più forte e più duratura la protezione. Ma, come dicevo, quelli che arriveranno sono tarati contro la variante 1, ma proteggono anche contro la 4 e la 5. Quindi dobbiamo sicuramente avere fiducia nei vaccini che vengono approvati perché si basano su dati scientifici che ne certificano l'efficacia.